Oh hi bitches, bentornati in questo nuovo video, scusate se mi vedete in super qualità con tutti i miei difetti ma appunto sto registrando con il nuovo telefono, come avete letto dal titolo in questo video Ho fatto l'immagine a copertina, apure se sono una cessa oggi però, amen Mi stavo dicendo come avete letto, ah, ho preso una ginocchiata assurda Giriamo la gattoni che il burro sta ancora sotto, ancora non l'ho girata Vi dicevo, come vi ho detto, come avete letto dal titolo, in questo video andremo a mangiare una pasta al burro, super top, super filante, buonissima Se volete la ricetta, l'ho imparata a fare da poco e la trovate sul mio canale, è uno dei video recenti Guardate questo formaggio come fila Oggi ho fatto 50 grammi di pasta perché non ho fame Cioè, in teoria volevo ordinare una pizza di Domino's, solo che lo store chiudeva alle due e mezza Io stavo ordinando per le due e con l'app non mi faceva ordinare E poi è stano perché se voi volete la pizza di Domino's, io vi posso dare un codice sconto del 25% Non è sponsor, scrivetemi su Instagram, il mio nuovo Instagram, babygaybakeup Back come tornare indietro Ma no, sono una strega oggi, gattoni, scusate E app come andare avanti E scrivetemi là e se volete io vi do un codice sconto con il 25% sul vostro ordine di Domino's Potete usarlo quante volte volete, in teoria, perché in teoria valeva per un solo ordine Però poi l'ho continuato ad usare e mi ha funzionato Quindi io non mi voglio scammare, però io in teoria ho uno sconto del 25% Se volete ve lo do, se poi non vi funziona ve la prendete in quel posto come Emily Se no vi ho fatto un regalo Quindi se volete il 25% di sconto, scrivetemi sul mio Instagram, babygaybakeup Mi raccomando quando arriviamo a 100 iscritti lo inizio ad usare Adesso stiamo a 75% quindi se conoscete qualche vostra nonna, la vostra vicina, fatemi seguire L'ho fatta un po' dura come piace a me Che poi ragazzi non so cosa mi era preso, però per un attimo volevo farmi le penne A me le penne come formato di pasta non mi piace, sono un po' come carpisa per le valigie e le borse Nel senso sono il male, non so la gente come le fa mangiare Ma io quando mangio le penne non godo, cioè non mi piace mangiarle So che è una cosa mentale perché alla fine c'è, voglio dire, la pasta è pasta, non è che cambia sapore Però proprio non mi piace Il formato, non godo quando le mangio Invece queste che prendono, queste prendono tutto il burro dentro Quando le mangi È una sorpresa ogni volta Vi ho detto ho fatto anche poca pasta perché in teoria sto a dieta Mi vedete più magra? Non penso Quindi in teoria sto a dieta Poi stasera se tutto va bene potete prendere la pizza di Domino's Quindi appunto vi farò un altro mukbang Vi sto viziando troppo in questo periodo Però appunto in teoria ho intenzione di prendere la pizza di Domino's stasera Quindi mi sono tenuta leggera Che poi uno ride e ci scherza Ma alla fine fare la pasta al burro è difficile Perché in teoria dovrebbe essere cremosa Ma basta che sbagli un secondo Nel senso che ci metti un po' più di formaggio E non ti viene cremosa, capito? Io per esempio ci ho messo troppo formaggio Non è tanto cremosa Cioè è sempre buona No, è sempre buona Però in teoria, cioè vedete, è sempre un po' cremosa Però in teoria la pasta al burro non deve essere secca Ma tu ci metti un po' Comunque c'è la ricetta sul mio canale Tu ci metti un po' di acqua della cottura e deve venire cremosa Così è buonissima Io l'ho imparata a fare da poco Perché Come sapete prima della prima quarantena Non sapevo cucinare la pasta Perché mangiavo sempre fuori Però vi giuro è un piatto super veloce Che è difficile che sbagli Perché alla fine è facile E ti dà un sacco di soddisfazioni E' buona Cioè il formaggio si sposa un sacco bene con il burro Io vi consiglio Se vi piace prendete un burro un po' salato Così rende tutto un po' più mistico Poi come vedete il burro fa da lubrificante naturale Cioè sembra che ho il burro cacao Se vi do un consiglio Cioè potete usarlo pure come lubrificante Quando giocate là sotto con il vostro boy Oltre l'olio di cocco Cioè Io ho sempre consigliato l'olio di cocco a tutti Perché è buonissimo per i capelli Va usato poco perché è super pesante Nel senso io adesso lo sto usando di nuovo Oltre la maschera alla borna Che quella è super top Però io appunto Per curare i miei capelli Cioè vabbè che sono super rovinati Io infatti non vesto mai di nero Perché ogni volta che vesto di nero Vedo tutti i capelli che mi si spezzano Stavo dicendo Vedo tutti i capelli che mi si spezzano Quindi ogni volta che vesto di nero Mi prendo a male Perché dico mio dio sto rimanendo pelata Però in teoria quando usi appunto L'olio di cocco O la maschera alla borra O Ola Plex I tuoi capelli sono top Io infatti alterno sempre queste tre cose E devo dire Cioè il top del top è la maschera alla borra Poi c'è l'olio di cocco E poi ci sta Ola Plex Che tutti dicono Oddio è stupendo Però io lo uso da tanto Sarà che c'è i capelli rovinati Io ormai sono da buttare Ormai sono da buttare Però con quello che costa O lo uso male io Oppure lo compro falso Non è che Perché io lo compro da Amazon Nel senso Uno potrebbe dire Vabbè a questo punto Compro direttamente dal sito Magari la prossima volta Che lo finisco Lo compro direttamente dal sito Così poi decido Se è veramente buono Se mi piace Oppure che non è un prodotto Che fa per me Scusate che c'è i capelli Un po' zozzi Solo che Non mi andava di lavarli Però appunto Vi dicevo Come tra virgolette Lubrificante Il burro è top Cioè guardate che labbra E non c'è il burro cacao Poi ci tengo a ringraziare Cioè io sto facendo Una media Di 100 iscritti al mese Non mi era mai capitato Non so se vengono La TikTok In questo caso Vi ringrazio Seguitemi su TikTok Baby Gay Music Però appunto Vi ringrazio Nel senso perché 100 iscritti al mese Per me sono un sacco Nonostante io comunque Faccio video senza impegno E senza voglia di vivere È un bel traguardo Cioè guardate Com'è filante Com'è perfetta Poi vi consiglio Veramente di provarla Perché è una pasta Super buonissima E come vi ho detto prima Facile Ovviamente non fatela Con le pennette Sennò appunto Vi diseredono Nel senso Le penne Sono il male Cioè non godi Quando le mangi Capito? Vi giuro Vi giuro ragazzi Quando la fate Appunto Perfetta È super buona Nel senso Quando ci mettete Il giusto La giusta porzione Come si dice Quando Quando non esagiate con il formaggio Il burro copre tutta la pasta Ma non troppo Cioè io vi consiglio Veramente di farlo Anche se avete dei figli Perché di sicuro Impazziscono Per questa pasta E poi mi fa piacere Che finalmente Su TikTok Ho trovato una community Che mi apprezza Perché io ho sempre avuto A che fare capito Con uomini trentenni Dico qua su internet Che non mi capivano Sono sempre stato esposto Ad un pubblico Di quindici anni Con una mente Un po' limitata Quindi pure non volendo Ti sentivi Quello fuori dal gruppo Purtroppo se a me Non mi interessava Invece su TikTok Ho un sacco di gente Che mi commenta Ah sei una queen Insegnaci a vivere E cose così E quindi Mi fa un sacco piacere Che finalmente L'ho trovato Una community Che mi capisce Che poi Io l'ho sempre detto Che i teenager Di oggi Saranno il futuro Perché hanno Una mentalità Talmente aperta Cioè non so se vi ricordate Però Qualche anno fa Già se un uomo Vestiva rosa Cioè ci ho fatto caso Adesso Sono tutta nera Cioè vestita di nera Vestito di nero E il divano nero Cioè come il mio futuro Qua in Italia Love you Stavo dicendo I teenager di oggi Hanno una mentalità Talmente aperta Nel senso Gli uomini etero Mettono lo smalto E Nel senso Pure se dicono Mi innamorano di un ragazzo Questo non è Che definisce La mia sessualità E mi fa molto piacere Perché non so se vi ricordate Qualche anno fa Già se un uomo Vestiva di rosa Pure se era etero Dicevano Ah ma sei sicuro Che sei etero Però si sono fatti In quasi poco Talmente passi avanti Che secondo me appunto Arriveremo Tra qualche anno E In una situazione In cui le persone Non si devono più giustificare Non devono O non devono per forza Più entrare In determinate categorie O in delle etichette Scusate l'italiano gattoni Ma Non so parlare Però appunto Mi fa piacere Perché appunto Vedo tutte queste persone giovani Che mi seguono Che mi capiscono Nel senso Vedo Tanti ragazzi etero Che mettono lo smalto E non si sentono giudicati E questo mi fa molto piacere Perché appunto A me piacerebbe arrivare In una società Che ognuno è libero Di fare ciò che vuole Senza Senza appunto Sentirsi giudicato O sentire La pressione Di un'etichetta Nel quale Lui non si sente Al cento per cento Rappresentato Mi avete capito Quindi io appunto Spero che fra qualche anno Questa cosa avvenga Così appunto Ma avverrà di sicuro Perché io vi giuro I teenager di oggi Sono talmente avanti Hanno una mente Talmente aperta Che secondo me Quando cresceranno Nel senso Prima o poi I nostri politici Anche io purtroppo La nostra Come si dice La nostra Generazione Prima o poi Dovrà morire E quando Nel senso Quando i sessantenni I cinquantenni Lasceranno spazio A noi Cioè la mia generazione Ormai sarà vecchia Però lascerà spazio A questi giovani Con questa mentalità Così aperta Che spero continui E sarà ovviamente Un mondo migliore Secondo me Anche bello Da viverci Perché ci sarà Sempre un confronto Però senza La paura del giudizio E ogni persona singola Si sentirà Capita E non sempre Come si dice Quello strano Che scende Dalla montagna Dersale Quindi io spero Che questa cosa Avverrà E appunto Sono fiduciosa Che tra qualche anno Cioè magari Tra vent'anni Trent'anni Quando appunto Tutta la vecchia generazione Sarà morta Però Non è Non perché gliela voglio titare Però nel senso Quando appunto In questo mondo Ci sarà gente Con una mentalità aperta E senza pregiudizi Per tutti Sarà un mondo migliore Quindi diciamo Io sono contento Perché cioè Non è che io sono Una gallina vecchia Appunto Con la quale Può fare il brodo Cioè Alla fine Con i teenager Abbiamo solo Pochi anni Di differenza No Però mi fa piacere Che già loro Hanno questa mentalità Così aperta E secondo me Appunto Tra qualche anno Sarà un mondo migliore Senza appunto E senza la pressione No Perché molta gente È brutta da dire Ma sente la pressione Delle etichette E magari appunto Se capita A un uomo etero Che gli piace Un uomo Ogni cento donne Si sente A disagio Si sente appunto Per forza Il bisogno Di dover giustificare Questa cosa O di andare contro O di non accettarla Quindi appunto Secondo me Tra qualche anno Tutto sarà Molto più libero E tutti appunto Vivranno E Vivranno appunto E Tutto ciò che gli succede È molto più scialla E quindi appunto Sarà un mondo migliore Non so se mi avete capito Perché appunto Non so parlare Però sono fiduciosa Nei ragazzi Del futuro E secondo me appunto Tra qualche anno Sarà una società top O cai E D che poi mi stavo scordando avete ascoltato il nuovo singolo di baby k patty io lo adoro non vedo l'ora appunto di ballarlo su una spiaggia sudamericana con qualche ragazzo super hot mmm 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 e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto io ho finito appunto di mangiare non so se ci beccheremo tra poco con il secondo mukbang devo vedere se stasera avrò fame vedrò living day by day però un po' rosico perché tipo è da tre settimane e che vorrei ordinare la pizza da dominos solo che vi capita mai quando ho detto oddio non mi va di smuovere appunto il facchino per una sola si chiama facchino quello che ti porta le pizze però nel senso appunto non mi va di smuovere solo il facchino per una sola pizza o magari altri giorni dici oddio non ho voglia di vedere nessuno e non ho voglia di aprirgli la porta mi fa gelo quindi poi alla fine non ordini più però quando mi deciderò ad ordinare vi farò un mukbang vi ricordo che se volete il 25% di sconto sul vostro prossimo ordine scrivetemi su instagram baby gay backup e vi do il codice sconto che potete usare tra virgolette quante volte volete questa cosa rimangate a noi ragazzi perché se poi ci scoprono ci levano questo codice ed è la fine però appunto gattoni io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere voi come state e mi raccomando seguitemi su instagram e su tiktok instagram baby gay backup back come andare indietro up come alzarsi o andare sopra e invece su tiktok sono ancora baby gay music grazie per aver seguito questo video e love you baci stellari scusate che oggi ero un po' sfranta però appunto sono ormai c'è confidenza pure se vengo cessa tanto ormai tutti gli youtuber e tutti i tiktok sono spaventati da me quindi non penso che guarderanno i miei video quindi pure se sono cessa amen cioè quindi ci becchiamo love you baci stellari haha ciao